E' stata rintraziata in zona Forlalini a Milano la vettura sulla quale era fuggito ieri pomeriggio un malvivente subito dopo aver rapinato una farmacia a Barriano. L'auto è intestata ad un 77enne ma viene utilizzata dal figlio sul quale ora i carabinieri stanno facendo degli accertamenti. Cadrebbe così definitivamente l'ipotesi dell'ostaggio ventilata ieri pomeriggio dalle forze dell'ordine. Il tutto è successo verso le 17.30, un uomo di colore alto circa un metro e 90 con cappello in testa e il volto coperto da un fular è entrato nella farmacia di via Kennedy con la pistola in pugno si è fatto consegnare il denaro in cassa poi uscito inseguito dal titolare e dal figlio del titolare della farmacia. I due oltre ad alcuni negozianti della zona hanno inseguito a piedi lungo la strada provinciale il rapinatore che ad un tratto si è voltato li ha minacciati con la pistola per poi continuare a fuggire quindi la fuga sull'auto condotta da un altro uomo. Dopo la rapina polizia di stato e carabinieri anche con l'ausilio di un elicottero hanno dato il via ad una massiccia caccia all'uomo che non ha dato però gli esiti sperati questa mattina il ritrovamento dell'auto a Milano.